Durante il mio intervento ho illustrato alcuni aspetti significativi per quanto riguarda la malaria oggi, che per il nostro paese è una malattia di importazione con circa 800 casi all'anno, però è una malattia ancora estremamente diffusa, è considerata uno dei tre big killers con oltre 600.000 casi di morti ogni anno di malaria e un numero globale stimato dall'OMS di circa 249 milioni di casi. Quindi una malattia importante per la quale, come ho sottolineato nel mio intervento, oggi abbiamo a disposizione a partire dal 2021 due vaccini che non sono il meglio che ci si può aspettare, però sono in grado di dare una protezione che varia dal 45 al 70% dei casi e certamente questo ha un impatto sulla mortalità per malaria, che è soprattutto nei bambini al di sotto dei 5 anni di età, estremamente importante nell'Africa sul-sahariana. Durante il mio intervento ho parlato delle principali febbre emorragiche, ovviamente patologie non presenti in Italia e in questo momento, in cui ancora anche a livello mondiale non abbiamo report di focolai epidemici, ma sono patologie estremamente temibili per cui dobbiamo essere pronti per la gestione a livello globale sia in termini di preparedness che di risposta. In questo momento, per la prima volta, abbiamo a disposizione farmaci efficaci, antivirali, monoclonali contro la malattia da virus ebola e abbiamo a disposizione anche dei vaccini da utilizzare in prevenzione nelle popolazioni più a rischio e anche eventualmente in profilassi post-esposizione. Diciamo che per noi giovani infettivologi questo è un momento di ritrovo importantissimo perché ci troviamo ad affrontare le tematiche molto attuali che lo saranno non solo adesso ma anche in futuro, che sono fondamentalmente due, sia l'antibiotico resistenza che ormai sta prendendo campo un po' ovunque, sia le malattie infettive tropicali, più che altro la medicina tropicale. Infatti abbiamo molti cluster anche di febbre emorragiche, di dengue anche in Italia, molti casi autoctoni tra Roma e Milano, che chiaramente si espanderanno anche in altre regioni e anche in altri paesi del bacino mediterraneo. Quindi entrambi sono due temi molto importanti e oggi abbiamo la possibilità di discuterli con dei professionisti e dei dottori che vengono a tutto il mondo. In questi due giorni stiamo affrontando delle tematiche estremamente importanti. Da una parte abbiamo l'antibiotico resistenza che ormai purtroppo fa parte della nostra società, legata principalmente a un utilizzo sconsiderato degli antibiotici, sia nell'uomo, ma anche abbiamo affrontato l'utilizzo degli antibiotici negli animali, negli allevamenti e nell'agricoltura. E questo ovviamente ha portato allo sviluppo di tantissime resistenze. Dall'altra parte invece stiamo affrontando tematiche legate al cambiamento climatico, legate ai flussi migratori, che stanno determinando il riemergersi di alcune infezioni neglette, prima non note, che oggi si osservano sempre di più anche nella nostra area geografica.